ciao a tutti sono sofia conte ho 16 anni ho scoperto il gruppo st attraverso un casting mi sono trovata molto bene ho frequentato il corso per attori mi sono trovata bene appunto sia con i professori che con i compagni e niente spero di poter mettere in pratica tutto ciò che imparato